Da bambino alle elementari, forse in prima o seconda, la maestra mi faceva sempre leggere davanti a tutti i compagni i miei pensierini inventati, come li chiamava, e io mi croggiolavo nella soddisfazione di chi, sapendo di scrivere bene e forse un po' meglio dei miei amichetti, mi godevo il mio momento di gloria, trasformando i miei amichetti in pubblico stupito e gaudente e la mia maestra in una specie di ninfa eco, di fata innamorata, davanti al piccolo scrittore e un po' narciso e anche parecchio viziato dai complimenti. Ma una volta, mentre raccontavo le mie piccole vicende, spesso attinte alla mia famiglia, una famiglia un pochino patriarcale, anni 60, dovete alzare gli occhi del mio quaderno e interrompere la lettura, perché la maestra era sbottata in un'improvvisa risata davanti ai miei amichetti, tutti a bocca aperta. Di solito la facevo ridere la maestra, ma questa volta era proprio uno sgarascio. Che cosa avevo detto di così divertente? Stavo raccontando la serata passata e il giorno precedente in famiglia, tutti radunati intorno al tavolo della cucina, per la solita cena. Da qualche anno era arrivata la tv in casa, nostro punto di riferimento, nostro nome tutelare, e io, che ero certo che televisione e televisore fossero sinonimi, avevo scritto letteralmente «Ci siamo riuniti tutti quanti per mangiare» e abbiamo cominciato a guardare il televisore. E meno male che quella mammina della maestra, che mai avevo visto con le lacrime agli occhi dal riso, non mi mortificò davanti a tutti dicendomi «Sì, Robertino, ma poi l'avete acceso?». Grazie. Grazie a tutti.